E bentornati o ben arrivati per la prima volta sul canale Glitter Sense Soul. Un caro saluto da Monica. Allora, video sulla cura dei capelli. Prima di tutto faccio una premessa. Allora, io da giovane avevo un grandissimo conflitto con i miei capelli. Quando ero ragazza non li amavo molto. Facciamo un passo indietro. Io nasco bionda, un biondo non chiarissimo però nasco bionda e con i capelli abbastanza lisci, leggermente mossi. Poi crescendo, diventando ragazzina, i capelli si sono scuriti, quindi sono andata sul castano e hanno cominciato ad arricciarsi, ma non in un modo deciso. Cioè non erano né ricci, belli definiti, né lisci, tendenti al crespo, sì che io adolescente odiamo i miei capelli. Oltretutto io ero un po' filo frichettona, figlia dei fiori, quindi invidiavo tantissimo quelle ragazze che avevano questi capelli tipo John Lennon, dritti, lunghi, magari legati sulla fronte con il fazzolettino, con la fascetta. I miei erano voluminosissimi. Io tendevo sempre a cercare di appiattirli. Non mi piaceva quella via di mezzo che avevano come mosso, diciamo. Non mi piaceva l'effetto crespo, quindi li ho veramente maltrattati, ne facevo di tutti i colori. Provavo tutti i prodotti liscianti, possibili, immaginabili e li piastravo. Ma una volta non c'era il culto che c'è adesso, non so, dei prodotti che proteggono il capello dal calore, protezioni solari anche per i capelli, no, non c'erano queste cose qui. E quindi io li piastravo così, come capitava, addirittura mi ricordo che li piastravo da bagnati, quindi poverini hanno sofferto e patito. Comunque poi, insomma, ho cercato sempre di farmeli andare bene, ho provato sempre prodotti su prodotti, trattamenti, un po' crescendo, un po' di tutto. Quando sono rimasta incinta del mio primo figlio, quindi si parla del 98, ho deciso, come fanno molti, di tagliare i capelli. Io li avevo portati sempre abbastanza lunghi, tagliati qualche volta al massimo a carré, a caschetto, però avevo un pancione enorme e ho deciso di tagliarli corti anche per praticità. Quindi taglio i capelli corti e in gravidanza i capelli sono meravigliosi, come la pelle d'altronde, gli ormoni in circolo ti fanno veramente venire dei capelli lucidi, più belli, addirittura erano meno crespi, miei erano veramente belli, ero contentissima. Peccato che poi, una volta partorito, crolla il palco e insomma i miei capelli sono tornati peggio di prima. Nel frattempo erano un po' cresciuti. Ho deciso quindi, per ravvivarli un po', di fare delle mesh, anche perché a me è sempre piaciuto il biondo. Io mi sono sempre sentita un po' blonde inside, se vogliamo dire, forse perché sono nata bionda, non lo so, ma mi piacevano i capelli biondi, quindi oltre a invidiare quelle che avevano i capelli non crespi, invidiamo anche le bionde. Sicché avevo sempre fatto qualche colpo di sole e decido di farle mesh. Ahimè, perché sono andata da un parrucchiere che me li ha praticamente bruciati, distrutti. Ovviamente io non me ne sono accorta quel giorno quando ho finito insomma da lui, perché lui me li ha asciugati tirandoli bene con la piastra, quindi erano perfetti, erano queste belle mesh bionde. La prima volta però che poi li ho lavati, lì è uscito il disastro. Avete presente, non so se da piccole avete mai provato a fare lo shampoo alle Barbie e poi avete cercato di asciugare loro i capelli col phon, bruciandogli. Ecco, dove io avevo le mesh e mi aveva fatto delle mesh proprio molto, delle bande di mesh molto larghe, i capelli miei erano così, sembravano paglia. Io ero ovviamente disperata, non sapendo cosa fare, ho continuato ad asciugarli con la piastra, quindi facendo anche peggio, perché non potevano stare così, erano bruttissimi. Per fortuna in quel periodo avevo ricominciato ad andare in palestra e avevo conosciuto una ragazza, che aveva dei capelli come struttura molto simile ai miei, nel senso che erano molto mossi, però anche lei non aveva un riccio deciso, però non aveva i capelli crespi. I suoi capelli erano corposi, il mosso era ben definito, quindi le ho chiesto notizie, le ho chiesto informazioni, diciamo, le ho chiesto dove andava a farsi i capelli. E lei mi ha dato il nominativo di salone di parrucchiera. Dove sono andata? Sono tuttora le mie parrucchiere, sono due gemelle bravissime, che io mi ricordo che lei mi ha detto guarda che loro, la prima cosa che fanno è guardare la salute del capello, ti fanno l'esame al microscopio del capello e ti fanno l'esame dell'acute, perché dove c'è un'acute sana c'è un capello sano. Dove c'è un'acute alterata da trattamenti troppo aggressivi o da agenti atmosferici o da qualsiasi cosa, insomma, il capello non può crescere sano, il capello cresce soffocato, quindi cresce debole, cresce crespo, perché quando è crespo vuol dire che è un capello grosso, quindi i capelli grossi sono composti per la maggior parte di acqua, però se il capello non viene trattato in maniera adeguata, quest'acqua evapora lasciando il capello spento, crespo, disidratato, insomma, mi ha spiegato un po' di cose. Per farvela breve, sono andata da queste parrucchiere, che come avrete capito sono tuttora le mie parrucchiere, loro mi hanno fatto un'analisi accurata di cute e capello e mi hanno detto molto onestamente le lunghezze bisogna tagliarle, è inutile che ti raccontiamo le favole, ti facciamo spendere chissà quanti soldi in trattamenti che non potranno mai risanare le lunghezze perché sono bruciate, però possiamo partire a tagliare un pochino, via via, tagliare via via che vada via la parte rovinata e a trattare la cute di modo che i capelli che ti cresceranno saranno veramente diversi. La mia cute era molto molto intossinata per via di trattamenti sbagliati, per via anche di queste mesh che mi avevano bruciato il capello, perché comunque l'acido delle mesh che era venuto anche a contatto con la cute aveva alterato il pH e il film idrolipidico, il follicolo era soffocato, il follicolo del capello, quindi i capelli partivano da una base di cute non sana. Mi sono affidata a loro e in pochi mesi mi hanno fatto veramente rinascere i capelli. Loro usano dei prodotti validissimi, sono sempre alla ricerca del prodotto migliore e sono ovviamente davvero come aveva detto questa ragazza attentissima alla cute, cioè la prima cosa è la cute e quindi ho sempre usato i prodotti che loro mi hanno consigliato o venduto. Ovviamente i prodotti che vengono venduti in un salone, soprattutto prodotti professionali e curativi, hanno un certo costo. Loro mi hanno sempre lasciata libera di acquistarli anche online se io li trovavo a minor prezzo online, sono sempre state veramente oneste. E quindi questo è quanto, insomma io poi adesso con i miei capelli ho fatto pace, li amo, li amo ricci, hanno un bel riccio, io ho una base, adesso forse ho un po' di ricrescita, la mia base, adesso la parte scura diciamo della base, la castana diciamo ha dei capelli bianchi ovviamente, quindi io mi faccio un colore, un biondo scuro in base e poi ogni tanto ma non sempre faccio queste mesh e devo dire che il risultato è veramente naturale e mi piace molto. Ok ho fatto tutta questa premessa perché per farvi capire insomma che i prodotti che adesso io vi mostrerò sono prodotti che per me hanno veramente fatto la differenza e continuano a farla. Allora partiamo in primis con la detersione. Io uso i prodotti appunto che utilizzano in salone le mie parrucchiere e sono i prodotti di un marchio che non vende online, quindi li compro da loro, che si chiama Believe Plus. Ve lo mostro, eccolo qua. Uso sia il cleanser alle proteine che è un prodotto che ha proprietà lavanti veramente veramente alte perché spesso il problema degli shampoo che si comprano così nella larga distribuzione in realtà non lavano veramente la cute, non vanno veramente a detossinarla. E poi questo che è il conditioner protein therapy, eccolo qua, sempre appunto di Believe Plus. Io vi invito a guardare il loro sito perché adesso vi leggo gli ingredienti di questi prodotti. Metto gli occhiali scusatemi ma io da vicino non leggo bene. Allora questo è un detergente cutaneo con principi attivi detossinanti e volumizzanti per capelli fini. Si usa come uno shampoo normale. Le mie parrucchiere mi hanno insegnato a emulsionarlo bene, scaldarlo con le mani e poi massaggiarlo in cute. Teniamo presente che quando io vado da loro in salone, quando mi lavano i capelli, questo con tutte le clienti, lavano per un quarto d'ora, buono, ma non per modo di dire un quarto d'ora, 20 minuti, a seconda di quanto la cute ha bisogno, di quanto la cute assorbe il prodotto e vanno a ripetere due, tre, anche quattro shampoo. Io ho imparato ad ascoltarmi molto, ad ascoltare diciamo la mia cute. Quando mi lavo i capelli io sento se ne bastano due o se ce ne vogliono tre, a seconda di quanto è intossinata la cute. La cute si intossina per gli agenti atmosferici, per il clima, per l'alimentazione, se stiamo passando un periodo di stress, se abbiamo usato qualcosa nei capelli che non va bene, magari qualche lacca che va ad irritare. Quindi è normale che la cute si intossini, perché la pelle è un organo che spelle tossine e a volte ci sono dei punti proprio nel cuoio capelluto che tendono a fare prurito, tendono ad irritarsi, sono le nostre valvole di sfogo di queste tossine. Allora, vi dicevo, questi prodotti qui sono tutti quanti senza petrolati, senza parabeni, senza coloranti e senza siliconi e sono in acqua termale, quindi è usata l'acqua termale per comporli. Contengono aloe barbadenis, succo di aloe barbadenis, contengono mentolo e contengono agenti lavanti, agenti profondamente lavanti e detossinanti. Il conditioner, che è questo qua, nero, io lo uso così dopo aver lavato la cute, finché sento che ne ha bisogno e me ne accorgo perché all'ultimo shampoo fa tantissima schiuma con pochissimo shampoo, io lo massaggio per tanto, tanto, tanto e lo lascio anche qualche volta in posa, qualche minuto. Poi lo sciacquo bene, tampono i capelli e vado ad applicare in cute, ma anche nelle lunghezze, perché questo ha un alto proteere idratante, questo conditioner alle proteine, sono prodotti proprio curativi, danno al capello proteine e danno al capello idratazione. Allora, io ho un capello grosso. I capelli grossi, come vi dicevo, sono formati prevalentemente d'acqua. Per questo motivo, d'estate, il capello grosso, con il tanto caldo, tende a rimanere disidratato, a diventare pesante, mentre un capello liscio e fino tende ad appiattirsi e a diventare grasso. Invece il capello grosso, che è pieno d'acqua, tende a diventare secco. Sono proprio due effetti diversi. Questi prodotti vanno a riequilibrare il tutto, quindi sia che si abbiano capelli lisci, sia che si abbiano capelli grossi, capelli ricci, ma soprattutto questi sono dei curativi per la cute. Questi fanno in modo che la cute sia una cute sana, dove un capello può crescere sano. Ok, quindi questo vi dicevo, il conditioner lo vado ad applicare in cute e lo massaggio bene. È freschissimo perché contiene il mentolo, oltre all'aloe ed altre sostanze, proprio detossinanti. E poi lo distribuisco anche un pochino, non tanto, nelle lunghezze. Ma, e lo lascio agire, lo lascio agire anche mezz'ora, bastano dieci minuti, ma a me piace avere tempo quando io mi faccio lo shampoo, mi piace lasciare agire bene i prodotti. Nelle lunghezze io metto un altro prodotto ottimo, questo qui lo ordino online. Questo è un prodotto della Tecna, la linea si chiama Spa, non so se riesco a farvelo vedere. E questa praticamente è, scusate che riprendo gli occhiali, mi perdo. Allora, questo qui è per capelli trattati e danneggiati. Allora, fibra ricostruttiva interna. Quindi praticamente questo prodotto qui contiene cheratina. È un prodotto, allora contiene l'enzima Q10 e cheratina. È un prodotto veramente valido perché questo qui, a differenza del conditioner che mi va a portare idratazione, mi porta cheratina e proteine perché i capelli hanno bisogno anche di quello. E quindi questo è un vero trattamento di bellezza che rende i ricci belli corposi, definiti. Mi toglie il crespo, perché questo qui mi toglie tantissimo il crespo, perché li va proprio a nutrire. Ecco, questo non lo faccio tutte le volte che lavo i capelli. Io li lavo due volte alla settimana. Mi sono sufficiente perché non si ingrassano i miei capelli, anzi. E lo uso solo una volta alla settimana. Lo lascio agire. Poi quando è trascorso il tempo, dei 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, il tempo che ho a disposizione è come voglio, insomma, lasciarli in posa, sciacquo via tutto. Quindi cute col conditioner e lunghezze con un po' di conditioner e questo. Sciacquo meglio che posso. E dopodiché tampono bene i capelli. Tampono bene i capelli e prima di procedere al discorso finish, asciugatura, riapplico una nocciolina piccola piccola di questo conditioner nelle lunghezze. Dopodiché pettino bene i capelli. Io utilizzo la spazzola, quella dessata. Avete presente quelle fatte, quelle larghe, che hanno tanti dentini messi in posizioni diverse perché non tirano, non strappano, non mi dà fastidio. Pettino bene e dopo applico un prodotto che per me è veramente eccezionale. È un modellante. Questo qui lo compro dalle mie parrucchiere perché online non lo trovo. Ed è questo. Vediamo se si mette a fuoco. Non riesco a capire se si mette a fuoco. Comunque vi leggo come si chiama. Si chiama Glaze, fluido modellante, shaping fluid. Elegy è la marca. Vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Sembra che sia un po' sfocato. Ok, comunque è un modellante diverso dai soliti gel a cui si è abituati. Allora, questo qui io ne metto una noce nella mano assieme a questo che è un altro prodotto sempre della Tecna, sempre a base di cheratina, ed è anche questo qui un protettivo del calore. Io li mescolo insieme perché ho così assieme sia l'effetto modellante e quindi modellante dei ricci sia un'estrema idratazione. Allora, questo prodotto si chiama Hair Lover. Idratazione e movimento, softness shaper, anti-shock termici. Contiene anche questo enzima Q10 e scrive, vi leggo esattamente, una crema fluida studiata per migliorare l'idratazione e la forma dei capelli ricci e mossi. Rende i capelli morbidi, lucidi e li protegge dall'umidità e dal calore. Quindi anche questo è un anticrespo. E quindi io una noce di modellante, qualche spruzzata di questo Hair Lover, dopodiché massaggio bene e vado ad applicare in questo modo su tutta la parte sinistra. Poi rifaccio, una noce di prodotto, qualche spruzzata dell'altro, la parte destra e poi la parte dietro. Dopodiché io faccio questo movimento qui, nient'altro. Poi mi metto a testa in giù e anche a testa in giù metto le mani in mezzo ai capelli e faccio questo lavoro qui. Basta. Dopodiché io i miei capelli li lascio asciugare così, al naturale, quasi del tutto, diciamo per tre quarti. Perché se io li asciugo subito da bagnati, non vengono bene, come piace a me, non vengono questi ricci così definiti. È come se si seccassero un po' troppo. Quindi li lascio asciugare per tre quarti. Dopodiché io utilizzo il phon con il diffusore, sia a testa in giù che a testa in su, alterno, e sempre facendo questo movimento qua. Poi alla fine, quando sono abbastanza asciutti, con la bocchetta stretta del phon, tiro su proprio dritta, tiro su un po' di ciocche e col phon vado a soffiare qui, in modo da dargli anche un volume nella base, diciamo che non mi restino un gonfi solo qui e poi qui stiano piatti. Dopodiché, quando sono asciutti, a testa in giù li scrollo un pochino e, tocco finale, applico un olio che ho scoperto da poco. Questo viene dalle parrucchiere dove va mia mamma, un altro salone di parrucchiere dove va mia mamma, e loro glielo vendono, però lo abbiamo trovato anche online, ed è un olio d'argan, è una cosa fantastica. Adesso ve lo mostro. Eccolo qui, ed è la Esterel, la marca è la Esterel, spero si legga. Ed è eccezionale, adesso vi leggo, si chiama Argan Elixir Restructure Fito Vital, olio capelli ristrutturante. Allora, fluido ristrutturante, restituisce lucentezza e benessere ai capelli, con una speciale azione protettiva, nutriente e anti-età. Adatto per tutti i tipi di capelli, è raccomandato per il trattamento dei capelli secchi, danneggiati e colorati. Ideale prima, durante e dopo l'esposizione ai raggi solari, quindi questo va bene anche d'estate, prima di andare in spiaggia. Allora, quello che mi piace di questo olio qui, è che è un olio, ma non appesantisce, scusate, per niente il capello, perché io me lo metto proprio anche qui, anche sulla base. Non ne metto tantissimo, però insomma, cospargo bene i capelli e ha un profumo meraviglioso, sa di pulito. Cioè, quando muovo la testa, io sento questo profumo di pulito, di bucato, bucato steso al sole. È veramente buono e ve lo consiglio, perché questo qui toglie via proprio ogni residuo di crespo. Poi io durante la settimana, ogni mattina ne metto una spruzzatina, tanto per ravvievare un po' i ricci. Ecco, questo video spero che non sia stato troppo lungo, spero che vi possa essere utile. Vi metterò nell'info box i link ai prodotti, ai siti, laddove c'è la vendita online, troverete anche appunto il negozio online. Laddove invece è solo il sito, per esempio, dello shampoo e del conditioner, ve lo linko. Però sappiate che da lì non potete comprare online, quindi dovrete trovare un concessionario, se volete provare questi prodotti che li vende. Sono prodotti, non vi ho detto, questi, lo shampoo e il balsamo costicchiano. Costicchiano mi pare 28 l'uno, se non sbaglio. Durano comunque parecchio, perché non ne servono quantità industriali. Però è ovvio che essendo dei prodotti professionali e soprattutto curativi, perché ci tengo a questo, è proprio come fare una terapia alla cute e ai capelli. È ovvio che non hanno il costo del supermercato. Ecco, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un like cliccando il pollicione in su. Se avete piacere di iscrivermi, a me fa solo che piacere crescere con il canale, vi iscrivete, attivate la campanellina, perché presto arriveranno molti altri video. Finora ne avevo caricati solo due, ma stavo aspettando il cellulare nuovo, con una videocamera migliore, insomma adesso è arrivato e quindi adesso ricomincio un po' più spedita. E se volete seguitemi anche su Instagram, sono sempre Glitters & Soul. Se volete commentare, se volete chiedermi qualcosa, intanto io vi mando un grande bacione, vi saluto e al prossimo video. Ciao! Ciao!